La situazione in provincia di Arezzo come ha emerso anche ieri da Regione in prefettura non è preoccupante. I nostri cittadini possono essere tranquilli di passare nei nostri ponti perché rispetto alla situazione anche in altre province stanno abbastanza meglio. È stato alla luce della tragedia del Ponte Morandi di Genova che si è svolto in prefettura ad Arezzo un incontro al quale hanno preso parte forse dell'ordine Società Autostrade per l'Italia, ANAS, RFI e provincia finalizzato all'esame della situazione di sicurezza delle infrastrutture del territorio provinciale con un'attenzione particolare rivolto ovviamente a ponti e viadotti. Nella Rettino due quelli da tenere sott'occhio, Ponte Presale sulla strada regionale 258 e Ponte di Palazzone sulla strada regionale 69. Sicuramente questi due sono i primi interventi da fare e speriamo effettivamente che la Regione e anche il Ministero delle Infrastrutture ci dia questi fondi proprio per intervenire su questi due ponti. Ponte Presale abbiamo una stima fatta qualche tempo fa, circa un paio d'anni fa, è la stima di 3.800.000 euro che non è poco. In effetti con la Regione abbiamo anche parlato di una eventuale demolizione e ricostruzione del viadotto. Per Ponte di Palazzone sono 2 milioni ma in questo caso la struttura sicuramente con un intervento che abbiamo prospettato sicuramente torna alla struttura non dico nuova ma al 99,9% nuova. La provincia di Arezzo ha svolto un monitoraggio su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti su ponti e viadotti. Alla luce di questo monitoraggio l'ente ieri ha riferito che complessivamente per svolgere le attività ispettive e per eseguire lavori di consolidamento e manutenzione su tutte le infrastrutture di competenza serviranno circa 11 milioni di euro. Questo è un primo step perché data anche la ristrettezza dei tempi che ci ha dato il Ministero abbiamo segnalato le cose più importanti.